Ma non ti vergogni a chiedere sigarette? A te che ne importa? Ma vattene un po' via! Ma chi sei? 118! La faccina 18! Sotto il porticato di Teramo! Puttane e trovi! Non ti vergogni a chiedere sigarette? No, ancora no. Perché? Sei drogato? Per cui il problema hai? Dove sta la polizia? Quella che chiappe drogati? 118! Ci hai metto il 118? Sotto il porticato di Teramo? Sì! Puttane e froci! Ma hai mangiato l'aperitivo? Vai a partifronte, se ce lo fanno! Hai mai mangiato l'aperitivo? Oggi è lunedì, sono le 3.40 del pomeriggio, stiamo andando a lavorare con mio padre Antonio, saluta Antonio! Nervosa oggi! Buonasera! Buonasera! Stiamo andando a lavoro con mio padre Antonio! Saluta Antonio! Ma che è Antonio Antonio! Oggi sono allegro! Dopo vado a farmi un giro con i miei amici, vado all'iper, insomma ci facciamo una canna, è vero Antonio? Saluta Antonio! Aspetta che chiama la polizia! Sta nervoso! Questa è la giornata! Poi compro le figurine, della Champions, scalciatori, panini... Saluta Antonio! Devi scendere! Se saluta scendo! No, non saluto nessuno! Antonio! Fuori dai valli! Saluta! Sta nervoso! Hai mai schiacciato pure la roba! Sta nervoso! Hai cercato di andare a coppa al culo! Mi scusi! Scusa Antonio! Chiudi! Bella raga! Sto tornando, merde! Bella raga! Sto tornando, merde! Con questo super pezzo in autostrada, Martin Garrix 130, si vola! Minnesota! Bero 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 Oggi ho vinto 30 euro! Ale, macchinette? Mi serve il carrello! Ale, serve il carrello! È un super pezzo, vuono andarmi a schiantare un attimino, no! Mi scusi, vabbè! Vale, bene! Buona spesa! Che quando parte Martin Garrix, sì, non capisco più niente! Bero 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 bero! Schizzo male! Prima di dire che facevo schifo, ricordati che io una volta per te ho fatto il telefono! qualcuno schizzo male no adesso non dire che ti faccio schifo io sono stato qualcosa per te ma non è un cognome come fa a fare 18 più 15 non fa 36 15 e 18 quanto fa coglione scusa quanto fa 18 più 15 18 e 15 come fa non fa non fa 36 33 15 e 18 quanto fa 15 e 18 coglione 33 non fa 36 33 io non capisco coglione che dio te maledica che fa 15 18 36 33 33 33 infatti deve di 36 allora è giusto 33 non mi dispiace non me ne pento la mia vita appartiene a gesù lui la compra da caro prezzo e sua gli appartiene posso provarla devo ancora iniziare il corso no sto pure in piedi che comunque non mi dispiace non me ne pento ho dato la mia vita gesù perché sulle appartiene la comprata caro prezzo non mi dispiace non me ne pento con la sua gioia e la sua presenza non potrei vivere più e dico addio alla morte ciao addio a peccato addio a tutte le cose che mi tenevano giù e dico benvenuto alla vita a me benvenuto alla gioia alleluia benvenuto a tua presenza ora vivo insieme a Gesù pum pum la borsa alleluia che il signore sia con te no basta questa grazie mille salve come devi pagare che senso la devi pagare ma per i bambini della parrocchia secondo te no però un dono del signore devo pagare l'affitto qui che cazzo lo so però il legno un dono del signore pensi alleluia salve con quale sigla è più conosciuto il poli vinil cloruro la cipolla stop al tempo faccio piangere mi viene da piangere anche a me guardate figurati a me devo andare a casa mangiare la pasta e fagioli la cipolla per me è la cipolla per me è la cipolla quello senza cipolla passaparola faccio piangere mi viene da piangere anche a me io andrei a casa a farmi una pasta e fagioli ragazzi prima di dirvi le solite robe vi facciamo vedere una cosina allora questo lo mettiamo tutto in bocca via devo toglierlo dalla bocca beh come avrete intuito abbiamo assaggiato cinque dei peroncini più piccanti al mondo vi giuro ragazzi io sono malissimo ma anche da morire mi fa ancora mal di stomaco c'è perché veramente un male che non si può descrivere comunque trovate questo video qua su patreon mettiamo qui sotto in descrizione il link è un video extra che non c'entra col canale quindi non ecco non fate i nini guardatelo mi raccomando e poi un video ringraziamento per quelli che ci supportano su patreon è un video per ringraziare chi ci supporta o chi decide da oggi di supportarci anche incuriosito da questo video appunto se volete vedere nel caso selezionate l'opzione video speciali in ogni caso se il video dei meme vi è piaciuto lasciate un like perché a 150 mila like faremo il secondo episodio come avrete notato alcuni non li abbiamo neanche citati appunto suggeriteci nei commenti quali altri meme italiani o anche stranieri se si prestano fare nel secondo episodio può accompagnare solo per esempio abbiamo fatto e niente lasciate la che abbiamo già detto qua c'è i relazioni extra ce ne sono due o tre di extra e qua c'è il link cliccami per patreon nel video questo porta proprio al video di patreon ragazzi a poi cioè se fate quell'opzione lì potete guardare anche quello dei granchi e dell'astici e gli altri che arriveranno durante tutto l'anno perché questo tipo un canale dedicato dedicato a chi ci supporta e sopporta